Fari conti con l'ambiente, siamo con l'ingegner Marco Fantozzi, workshop dell'associazione italiana Water Club. Introduciamo questo nuovo club. Benissimo, abbiamo creato questo club che è un'associazione tra aziende del settore idrico per fare massa critica e aiutare l'azienda dell'acqua a migliorare le loro performance. C'è una forte necessità di sviluppo di questo settore che ci vede in ritardo rispetto agli altri paesi europei e quindi vogliamo insieme aziende di questo settore aiutare i gestori a fare dei passi avanti, portando loro metodologie e tecnologie avanzate che possono veramente portarci a livello degli altri paesi europei. Quali aziende? Possiamo fare dei nomi? Sì, certamente. Sono aziende che coprono un ampio spettro di attività relativamente alla gestione efficiente dei sistemi idrici. Andiamo da produttori di contatori e sistemi di automatic meter reading, software gestionali per i sistemi idrici di modellazione, software specialistici per la gestione delle perdite. Abbiamo anche produttori di misuratori di portata e altre tecnologie che consentono al gestore di misurare prima di tutto e poi di gestire pressioni e perdite nelle reti di distribuzione. Questo in genere, diciamo, le tecnologie che forniamo. Ecco, invece, in relazione al workshop di oggi, soluzioni innovative per la misura, l'analisi, il controllo delle reti di distribuzione idrica. Possiamo introdurre in linea generale i temi degli interventi? Sì, abbiamo strutturato questa giornata con due sessioni. La prima parte della giornata che è dedicata alla presentazione delle metodologie internazionali che sono state sviluppate dall'International Water Association, un'associazione di cui faccio parte e sono molto attivo nel cercare di promuovere questo tipo di metodi anche in Italia. E quindi da questa prima presentazione poi ci muoveremo a vedere le varie tecnologie che rendono possibile la pratica applicazione di questi metodi e nel pomeriggio invece vedremo dei casi di studio, quindi delle aziende con cui i membri dell'associazione hanno lavorato in questi anni e i risultati che sono stati raggiunti. Cioè portiamo dei casi di studio per far vedere che migliorare è possibile e conviene. Grazie, grazie Marco Fantozzi e buon lavoro. Arrivederci, grazie a lei. Grazie.